pensate quando vi trovate sotto stress quando vi capita qualche cosa qual è la prima domanda che vi fate che cosa faccio no non è che cosa faccio pensateci bene il che cosa faccio è conseguente avere interpretato la situazione quindi la prima domanda che vi fate è che cosa è successo ma siccome le situazioni sono di routine non rispondiamo in maniera consapevole in una situazione di crisi che cosa è successo è fondamentale allora il che cosa è successo è la prima risposta che il crisis manager deve dare in una situazione di emergenza ed è una risposta comunicativa io ti dico che cosa è successo e che cosa è successo con il corona virus sono emerse disastrosamente tutte quelle problematiche che oltre 30 anni fa cernobil 1986 avevamo visto emergere esattamente le stesse ricordiamoci cernobil rilascio nucleare dalla centrale in ucraina e il rilascio radiologico non si vede non puzza non si sente di conseguenza non sarebbe esistito se non si fosse narrato allora 1986 a una telefonata italiana al governo francese che cosa dite di cernobil si rispose dall'altra parte perché voi dite qualcosa e questo inquadrava molto bene la competenza strategica della comunicazione del rischio ricordiamoci che dopo cernobil si ebbe nell'87 il famoso referendum sul nucleare in italia che abolì nucleare la francia non poteva permettersi vive di energia nucleare dopo cernobil si definirono chiaramente quelle che erano le strategie della comunicazione del rischio in situazioni nelle quali la minaccia sarebbe stato un fantasma come il radiologico ma come anche il batteriologico il chimico quello che stiamo vivendo oggi cernobil oggi si è replicato con frustrazione per chi l'ha studiato perché si sono ripetuti gli stessi errori e con un grande amplificatore rispetto a cernobil un sistema tecnologico della comunicazione che è completamente cambiato o meglio nel quale si sono inseriti in maniera propetta e prepotente i social media i nuovi circuiti di una comunicazione esplosa comunicata incontrollabile che cosa è successo e torniamo i primi dieci giorni del coronavirus vediamo che cosa è successo innanzitutto abbiamo giocato a fare i primi della classe guardate come siamo bravi chiudiamo ci chiudiamo perché così non contiene contaminiamo gli altri non è perso vero in un contesto conflittuale diffuso del mondo quello che stiamo vivendo adesso fornire i competitor ai bordi ai margini del nostro paese l'opportunità di dire avete ragione siete proprio bravissimi e quello che si deve fare chiudervi in casa vi aiutiamo vi chiudiamo noi in casa e così c'è stato un blocco nei nostri confronti certo tutti avrebbero dovuto bloccarsi prima certo ci sono stati dei ritardi ma utilizzati funzionalmente dei nostri competitor perché e questa è la mancanza perché non c'è stata una comprensione degli effetti domino delle dipendenze inevitabili che un sistema reticolare globale una crisi ha e la comunicazione ancora di più non si è soli e si è pensato di poter agire da soli per rispondere a un evento che sarebbe esploso rapidamente sul mondo secondo errore l'emotività indecenti media che per fare cassetta vivono di affettività sensazionalismo ed emotività cambiando posizione di giorno in giorno rispetto a quello che accadeva sarebbe accaduto si sarebbe visto nel futuro in questo modo spezzando la continuità di una linea che quella essenziale per il pubblico per poter vedere quell'orizzonte che giustifica le azioni che intraprende ora per poter arrivare alla conclusione a cui mira social media che sono diventate tifoserie incontrollabili assolutamente assolutamente senza possibilità di avere una una norma e un riferimento alla qualità dell'informazione che veniva dispensata ma ancora peggio scienziati di cui veniva usata la conflittualità e il narcisismo per la loro presenza nei media quando lo scienziato da sempre nel pubblico è percepito come quella fonte disinteressata sopra le parti non politica che partecipa per aiutare la conflittualità della scienza è stata disastrosa nei primi dieci giorni della comunicazione per non parlare dell'eccesso di presenza politica da una parte e l'incompetenza nella leadership tecnica che è stata fatta due errori fondamentali che già avevamo visto con cernobile e che ci saremmo aspettati di non rivedere e legati di fatto a uno una crisi sempre notiziabile e la notiziabilità fa sì che per la politica che dimentica di essere anche governo per la politica di possa diventare luogo del consenso e quindi palcoscenici da calpestare e competenze specifiche non basta saper comunicare bene in situazione d'emergenza bisogna saper comunicare in funzione dell'emergenza il crisis management della comunicazione è una scienza specifica con la comunicazione situazione di crisi noi promuoviamo comportamenti adattivi a quella specifica situazione non facciamo semplicemente buona comunicazione tutto questo l'abbiamo visto lo stiamo vedendo si sta correndo ai ripari è difficile correre ai ripari in una situazione d'emergenza perché si spende si spende tutta la fiducia tutta la fiducia che si è costruita prima ma abbiamo ancora delle possibilità e conti si faranno dopo noi abbiamo la grande c del coronavirus da combattere e abbiamo 4 la grande c del coronavirus che noi dobbiamo combattere e la combattiamo con la c della consapevolezza adesso dobbiamo essere consapevoli che il rischio c'è è concreto ed effettivo la combattiamo con la c della competenza le nostre azioni non sono a caso le nostre azioni devono fondarsi sulla conoscenza competente di quello che è opportuno fare per poter uscire in piedi da questa situazione e la combattiamo con la c della collaborazione perché l'agire individuale ha un effetto importantissimo sui risultati della sicurezza collettiva consapevolezza collaborazione competenza ci faranno battere la c del corona